Ciao ragazze e benvenuto al solito appuntamento settimanale del topo della settimana, più di usati sempre in collaborazione con la mia amica Fede, Derry Bruno qui su Youtube come sempre vi lascio giù nell'info box il link al canale di Fede dove potete trovare tutti i video in collaborazione con me adesso vi mostro i 5 topini di questa settimana e vi mostro due new entry che appena me le ha portate Mara perché come sapete mi è venuta a trovare Mara e quella pazza mi ha portato dei pensierini praticamente stavo morendo infartata quando li ho visti e sono due prodottini della P2 allora vi mostro il primo, il pezzo forte ve lo lascio come secondo, cioè non potete capire ed è questo blushino qui della P2 che fa parte dell'edizione limitata Dress Code Happy ha un packaging delizioso e anche la trama insomma di questo blush vedete è fatto tipo in cartone con i fiorellini a contrasto è troppo troppo carino e questa diciamo è la trama del blush praticamente c'è il fucsia, il lilla, il salmone è delizioso, poi io sono malata di blushite e quando l'ho visto cioè non potete immaginare come sono rimasta è molto molto pigmentato, sfumabilissimo questo è il colore, è un blush bello luminoso molto molto pigmentato, modulabile quindi potete intensificarlo facendoci più passate vi faccio vedere ho preso un altro po' sfumabilissimo si sfuma una bellezza come potete vedere poi vi lascia sulle guance questo effetto glow è davvero bellissimo e questo qui è lo 010 Sweet Heart dolce cuore ed è bellissimo davvero senza parole quando l'ho visto da malata e appassionata di blush sono rimasta davvero senza parole è stupendo non so di quale collezione è, devo dire la verità ma è troppo troppo carina non so sinceramente se si può ancora trovare vi dico la verità però è un topo della settimana nella maniera più assoluta è stupendo poi ho un altro prodottino che io non mi aspettavo assolutamente di avere tra le mie mani e quando l'ho vista sono rimasta tipo così è questa la palette della P2 quella lì dell'edizione limitata io praticamente questa palettina qui l'avevo vista sulla pagina facebook di Milk & Make che hanno anche un canale diciamo youtube queste ragazze che vivono in Germania e fanno vedere tutte le novità di P2, Essence, Catrice e l'avevo vista insomma sulla loro pagina facebook questa è la palette è di un'edizione limitata è fatto in questo modo dietro praticamente porta i colori delle cialdine è praticamente ha 18 cialdine per 1.2 grammi di prodotto ha una scadenza di 12 mesi ed è fantastica davvero fantastica ora ve la apro ovviamente il packaging è bello resistente ha uno specchio enorme davvero quindi secondo me si può anche trasportare facilmente e questi sono i colori porta un pennellino che io ecco che ovviamente è caduto che io ovviamente non ho utilizzato ma i colori sono di una bellezza assurda davvero assurda nella piega dell'occhio ho sfumato questi due marroni matte infatti all'interno trovate sia diciamo ombretti matte in particolare i marroni giustamente per per diciamo creare la sfumatura nella piega dell'occhio poi sono tutte colorazioni sheer e satinate vi faccio vedere questo arancione che ho utilizzato ieri per il trucco ed è bellissimo il viola che è anche molto molto bello questo verdino qua alcuni colori ovviamente non sono ancora riuscita ad utilizzarli ma come vedete hanno una scrivenza mostruosa il verde davvero stupenda questa palette io insomma quando l'ho vista sulla pagina facebook di milk and milk praticamente stavo sbavando davanti al computer e il giorno dopo me la sono ritrovata tra le mani praticamente stavo morendo infartata nel vero senso della parola sono rimasta tipo così e non so che dire cioè Mara mi lascia sempre senza parole davvero senza senza parole raga non potete capire cioè mi stava rendendo un infarto per questi due prodotti di qua perché sono troppo troppo belli li ho voluti mettere nei nei top della settimana perché cioè da quando li ho ricevuti li sto usando e mi piacciono tantissimo come qualità cioè la prima impressione è stata proprio wow poi sempre come prodotti top vi mostro questo pennello di essence che non avevo ancora utilizzato da quando Mara me l'ha inviato ma è bellissimo praticamente è tipo uno stirper brush ovviamente non so se si può ancora reperire perché fa parte dell'edizione limitata di essence dei pennelli della blooming se non erro ma è morbidissimo l'ho utilizzato per stendere la bb cream per stendere il fondo e mi sto trovando divinamente è molto molto buono non perde peli stende il prodotto benissimo davvero un ottimo ottimo pennello mi sta piacendo davvero tantissimo poi altri due prodotti top sono la cipria della bourgeois che ho utilizzato durante questa settimana e io l'adoro sia per il suo profumo di fiori che è bellissima e sia come finish e come texture di questa cipria perché è molto molto setosa ha una polvere impercettibile impalpabile quindi ha davvero un bellissimo finish sul viso mi piace tantissimo la mia nella colorazione 73 ecco sta luce sembra bianca ma non è bianca 73 miel doré ed è fantastica davvero l'ho presa sempre al banchetto magico vedete bella scrivente ha una polvere davvero sottilissima mi piace davvero tanto e poi come ultimo topino della settimana ho riscavato dalla cassettiera il top coat volumizzante di Kiko questo qui che devo dire la verità è un prodotto immortale perché questo qui l'ho comprato tipo 4 anni fa e campa ancora nel senso non mi si è seccato lo sto utilizzando mi si è rotto diciamo il packaging ma fondamentalmente me ne frega la mazza perché il prodotto è ancora buono e ho questo qui diciamo il classico top coat di Kiko lo utilizzo per le cia inferiori mi sta piacendo davvero tanto vedete che bel effetto che mi da dall'altra parte mi fa un effetto davvero tipo manga ai occhi mi sta piacendo tantissimo e quando diciamo non uso le cia finte lo utilizzo come top coat e nulla mi piace davvero tanto all'interno come sapete contiene delle fibre quindi è davvero un ottimo ottimo prodotto e poi vi faccio vedere cosa ho utilizzato in questa settimana come prodotti viso vi faccio vedere la BB cream della della Garnier questa qui per pelle miste e grasse perché la trovo molto molto pratica è buona perché copre ha un'ottima coprenza si stende subito cioè non dovete stare lì tre ore a stendere il prodotto quindi se avete fretta è un prodotto top che vi consiglio perché voi praticamente la mettete sul pennello fate insieme due passatine così e state a posto quindi la BB cream di Garnier poi ho riscoperto dalla cassettiera il super 6 24 ore di Maybelline che avevo preso in offerta da acqua e sapone quando c'era la promozione 5 euro e qualcosa e ti davano il correttore ottimo fondotinta ve ne ho già parlato mi piace perché dura tantissimo e mi piace anche la consistenza di questo fondo il finish che ha sul viso non è molto molto diciamo pastoso come fondo mi piace perché è abbastanza leggero sul viso non è diciamo quell'effetto mascherone che vi rende insomma il viso pesante nella maniera più assoluta è davvero un ottimo ottimo fondotinta non so quanto costa no se non sbaglio costa intorno ai 10-12 euro a prezzo pieno ve lo straguanzio però perché d'acqua e sapone lo mettono spesso in sconto e andare a vedere d'acqua e sapone se lo riuscite a trovare in offerta perché è davvero buonissimo e poi ho utilizzato sempre il wheel tante ideal di viscilla perché è davvero ottimo è un fondo molto molto leggero quindi sta iniziando a fare caldo e sto utilizzando i fondi più leggeri che ho insomma quei fondi che sul viso non sono opprimenti che vi viene subito da sudare insomma che riuscite a sopportare in parole spicce e quindi ho utilizzato questi due fondi qui e la BB cream di Garnier poi come eyeliner sto utilizzando sempre lui questo qui della Splash Cosmetics ed è anche quello che mi vedete è un eyeliner liquido questo qui porta delle perlescenze vedete però non sull'occhio sono proprio impercettibili come potete vedere sembra un nero mat è molto molto pigmentato un'ottima durata davvero ottimo ve ne ho già parlato già nell'altro topo quindi non mi soffermo più di tanto a parlarvi di questo prodotto poi come ultimo no come ultimo che sto dicendo come sempre prodotti occhi vi faccio vedere il mascara Lash Mania Reloaded di Essence che sto utilizzando per quando metto le ciglia finte per uniformare le mie ciglia con le ciglia finte l'ho utilizzato anche adesso e praticamente mi piace perché quello scovolino permette di prelevare tutte le mie ciglia e di farle aderire perfettamente alla ciglia finta è un ottimo mascara anche diciamo per le ciglia mi ci sono trovata bene quindi ve lo straconsiglio ed è un altro prodottino che ho utilizzato in questa settimana sia con ciglia finte che quando non le mettevo diciamo poi sempre come prodotti occhi questa volta ombretti vi faccio vedere la palettina della Mua l'Andress Me Too la copia della Naked 2 io ho anche la Naked 2 però questa qua non l'ho proprio usata si può dire sta palettina e quindi sto tentando tentando sto tentando di utilizzarla almeno un pochettino e e nulla la conoscete bene inutile insomma che mi soffermo più di tanto a parlarvi di questo prodotto visto e stravisto ovviamente la qualità dei ombretti è quella che è io ve la straconsiglio per chi ancora non l'ha provata però davvero è buona ho anche l'Andressed che è la copia della Naked oppure quella molto molto buona e le palettine di Mua costano poco e hanno un'ottima ottima risa come ultimi due prodotti vi faccio vedere due prodotti labbra questa settimana ho utilizzato per la maggior parte rossetti nude perché ho usato un pochettino con gli occhi e quindi ho utilizzato lo 08 della Collection Professional della linea Matte 08 vi faccio uno sbocino è questo bellissimo nudo qui sul rosato tipo beige rosato ed è bellissimo ragazzi scusate la voce ma ieri sera praticamente l'ho persa questo è lo swatch del del rossetto di Collection e poi ho utilizzato questo rossettino qui della Liole che fa parte della linea Vivid Matte Lipstick ed è lo 03 Peach cioè non è un nudo è un colore molto molto particolare però comunque io lo considero un nude perché comunque non lo so io ho una strana concezione dei rossetti nude comunque vi faccio uno sboccio è un colore molto molto particolare ha un sottotono diciamo molto molto particolare quindi non è un rossetto che sta bene a tutte però neanche io insomma pensavo di starci bene l'ho provato e non penso che mi stia male un colore di questo genere mi piace molto come potete vedere non è proprio matte rispetto a quello della Collection però io lo tampono con una cipria e il problema insomma non sussiste e quindi ho utilizzato questi rossettini quindi perché ho usato un pochettino ho usato un pochettino con gli occhi e quindi sono andata un po' più tranquilla insomma sulle labbra e niente ragazzi questi qui sono i miei topi della settimana più i prodotti usati di questa settimana io vi mando un bacione grandissimo mando un bacione grandissimo a Federica vi invito a vedere il video di Federica e ci vediamo con il topo della settimana il prossimo lunedì come sempre vi mando un bacione a tutti voi e al prossimo video ragazze ciao